Siamo qui, siamo a Match Music, stai guardando Dance Corner. Se stai guardando Dance Corner ti interessa tutto quello che ruota intorno alla vita, alla musica, al lavoro dei DJ e io qua ho un grande DJ con me, c'ho Daniele Baldelli. Grande, grande sono, più o meno alto come te, dai tranquillo. Ma ragazzi è grande per la sua fama e per la sua bravura, diciamolo. Grazie mille. Senti, abbiamo parlato di un po' di locali storici dove tu hai suonato e veramente hai lasciato la tua impronta. Ma se ti dico il nome Cosmic, cosa ti dice? Ma io diciamo che il Cosmic secondo me è la mia vera identità perché la Baia sicuramente è stato un trampolino di lancio, diciamo a questo livello appunto. Infatti è stato per merito della Baia che io sono stato contattato da questa persona che decideva di aprire un nuovo locale. Un nuovo locale con idee anche lì particolari, diverse, perché il locale voleva essere nell'intenzione una palestra da ballo. Infatti non c'erano posti a sedere. Se il locale era, non so, una capienza da 700 persone, la pista era per 500 persone. Per cui non c'era veramente, o vieni a ballare o cosa vieni a fare. Poi non c'erano alcolici, si beveva solo Coca-Cola, Fanta e acqua. E quindi aveva questa identità che non è servita poi ad altri problemi che ne vengo dopo. Quindi arrivo al Cosmic che aveva una pista appunto grandissima stile John Travolta, aveva le colonne stile Studio 54, aveva i Neon che ancora non c'era il laser fatto in un certo modo, che imitava il laser, insomma era molto particolare. E la console era ad imitazione del casco che c'è su Thanks God is Friday, cioè le due mani che tengono un elmetto, qualcosa del genere. E io arrivo al Cosmic nel 1979, nel 1979, in aprile 1979, apre il Cosmic e mi porto dietro tutto il bagaglio della Baia, cioè la musica era prettamente disco e funk. Chiaramente era sempre un disco e funk particolare perché io da caso mi piacevano più i lati B che il lato A. Cioè era assolutamente clentico. Un po' underground, diciamo così. Poi nell'80 succede qualcosa di particolare, che è dovuto un po' anche forse al momento, al periodo musicale, nascono nuovi generi, la new wave. Poi io comincio a interessarmi di altre cose, comincio ad ascoltare jazz, comincio ad ascoltare musica elettronica, un po' di tutto. E allora compravi gli album, compravi gli album, per esempio compri l'album di Cat Stevens, che è un cantautore, e dici vabbè io me lo compro perché lo voglio ascoltare. Poi scopri che c'è un brano che si chiama Was Dog the Daugnut, e dici ma cavolo, ma questo si può suonare, si può ballare, forse si può ballare. È così con tutte le altre cose. E un'altra cosa a cui ci tengo a dire, che ci siamo dimenticati di dire forse, allora il DJ non è come oggi, che può andare a vedere, può andare a sentire gli altri. Non c'era comunicazione, per cui senza falsa modestia posso dire che quello che ho fatto l'ho fatto per i cavoli miei. Non è che andavo ad ascoltare un altro per anche avere solo degli input, delle idee. Non andavi a ascoltare gli altri, non c'era internet, la rete ha aperto tutto. Non c'era neanche i giornali, non c'era niente, cioè tu andavi nel negozio dei dischi, oltretutto la Dimar di Rimini, che era un grandissimo negozio di dischi ai tempi, vendeva i dischi senza farteli ascoltare. No, non ci credo. Quindi tu compravi un disco, lo compravi perché magari conoscevi il precedente, un disco lo compravi perché c'era una bella gnocca in copertina, chissà, sarà bello come la copertina, e poi magari quando andavi a casa dici, cavolavi pure perché certi erano veramente da buttare, che poi non sono mai da buttare perché come si dice, della musica non si butta via niente. No, no ragazzi, bravo. Infatti io sono arrivato ad avere circa 60.000 vinili e non vado più nei negozi perché c'ho da ascoltare a casa mia. Trovo più a casa mia che nei negozi, comunque è una battuta ovviamente. continuo a comprare vinili e vabbè, ritorno al Cosmic. Ritorno al Cosmic. E quindi ecco, lì nasce questa cosa che io sento veramente mia, che è questo modo di suonare un brano elettronico della Sky tedesca, insieme a un reggae di Yellow Man mandato a 45 giri piuttosto che a 33, mescolato con un altro New Wave che però è troppo veloce, allora lì invece di 45 lo metti a 33. No, non ci credo. Facevi queste cose. Tutte un'alchimia di cose per cui viene fuori questo stile che veniva chiamato, guarda caso, afro, che non c'entra un benemerito niente, insomma. Nel senso che probabilmente questo nome si è stato affibbiato dalla gente che veniva a ascoltare, probabilmente perché ad un certo punto si è cominciato a suonare in mezzo a tutti questi generi musicali mescolati insieme, un brano di Mano di Bango, un brano di Felacuti, un brano di Akedengue, Ture Kumbha. Dei brani africani. Veramente dei brani afro, che però erano probabilmente il 10% di tutta la serata. Però si vede che questo nome affascinava e noi quindi eravamo i DJ afro e mi ricordo che a Milano, quelli di Milano, ci sputtanavano a Iosa, perché dicevamo che erano proprio dei deficienti, che proprio, senti che musicaccia che suonano questi qua. Ma tra l'altro, Daniele, se vai... Noi invece dicevamo il contrario, i milanesi non copiscono proprio niente, no? Se vai in internet e cerchi afro, cioè tu, Daniele Baldelli, sei visto come veramente... Ma no, però io non mi riconosco questa cosa perché ovviamente, probabilmente allora, appunto per la mancanza anche di notizie, di giornali, di media che potevano... La gente era forse un pochino ignorante perché avevo dei fans che venivano a dirmi mettici qualcosa di afro e alla domanda cosa vuoi, cosa vuoi sentire? E ti dicevano tipo, Mike Holfin, scusa un attimo, Mike Holfin non è proprio afro, però vabbè era... Ma no, ma come lo metti tu, Daniele, dai! In quel periodo, però ecco dai, eravamo etichettati in quel modo lì, per cui ci sta, va bene, però oggi, come oggi, arrivati a questo momento, è bene specificare che questo termine indicava prettamente una situazione, più che un genere, un modo di fare il DJ, e oggi bisogna spiegare che l'afro è un'altra cosa, insomma. Certo, ma tra l'altro mi sa che il Cosmic avremmo bisogno qualche minuto ancora, un po' per spiegare perché ancora fa... è forse, anzi, sicuramente il locale che ti rappresenta. Sì, io amo propormi come Cosmic Sound, ho il marchio che mi tengo sempre addosso, per cui vado avanti su quella linea. Ce l'abbiamo qui, è lui, Cosmic Sound, Daniele Baldelli, è qui a Match Music.